buongiorno a tutti sono mickey falco 3100 e benvenuto alla nuova live con fortnite iscriviti al nostro canale alessandro e mickey falco 3100 i mickey 2100 iscriviti al nostro canale al nostro canale al nostro canale al nostro canale ciao a tutti noi stiamo a fare una parte l'arena non è su un trale è una parte l'arena ah non posso ne vabbè vabbè mi dico aspetto che pitte oh mickey buongiorno salute e altre per buongiorno 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 comunque si guarda la sfiga ho fatto 90 in testo per quei cecchini porto il tiro di una volta no 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 me l'ha da tu guarda un po' chi che c'è no no black guarda un po' chi guarda un po' chi guarda un po' chi chi E' un po' ce l'abbiamo Palla queste macchine che non si potrebbero E' un po' ce l'abbiamo No, non la piace Non la scende il baffetto di baffetto Cosa? No, non la metterò Mi prendi la safe Si E' un po' Quanto sai? Quanto sai? E' un po' Merda, fa due Palla 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 Cosa? se si è brava, sta qua sopra sta dietro il fire mi dai la corona, per favore stiamo in partita, amici ah perchè sennò mi guardavo la partita io eh, non puoi è arena ho fatto, ho fatto ho fatto ho fatto maestro 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 merda stanno facciamo che ho fatto che hai solo un po' come c'è una H 0 si, si, si si, 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 si... Parco diaz, altra gente, stare le botte, sarà mai facile, è impossibile, sì. Parlo qui lì prima, parlo a fin Napoli, salivo sul regionale, però c'è gente là, la campanella, se riusci a fare una hill, sto prendendo la top, la campanella, la campanella, la campanella, la campanella, il ci ha funghi, c'è qualcuno che mi spara? ho capito con la taglia lì lo c'è un po' c'è un po' non la prende mamma merda c'è questa roba figa ma che stai facendo? guardate che coglione il traietto leggendale è la sua lì l'ho fatto no? guardate l'altro qui viene là che muove l'ha presa c'è una roba dove ma la 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 ma quanta probabilità c'era ma 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 è evitato qualche amico di picture è il mio carico ma come l'ho fatto? Jab 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 1,2 Jab Jab ma come l'ho fatto? e sarà come l'ho fatto? non so stare sono per mezzo la killer io non darò perchè sai perchè? si uccide che si fa godo moriamo insieme godo la fine non c'è il punto c'è la continuazione di quell'altro che adesso ce l'ho quindi non mette il punto alla fine devi continuare clicchi spazio poi fai copia incolla e l'ho fatto a parte del resto buongiorno vai metti la corona amici stop buongiorno salitati la shot Responsi la shot Jo Gabri è morta Gabri sei mortato allez salutavate la shot la laiv b voi le to Ray dei coscia già l'ho detto, mi chiedi va bene va bene va bene quando voi ci fate mangiare? l'una l'una, ok 2 aspetta ma torniamo fra 2 secondi 8,7,6,5,4,3,2,1 8,7,6,5,4,3,2,1 aspetta no bro aspetta no bro aspetta no Steve aspetta no l'accento aspetta no aspetta no palizzi ragazzo scusa amiche, scusate chat mi sucio, mi sucio oggi carbonara a casa mia oggi gnocchi colpeso sicuramente li lascio l'ho spesa chi è che fannoci? ��i non mi dice te ah, per fare umore è tipo combo combo si, qualcosa del genere è qua nel posto oh merda una condanna due condanne c'è boss qui dove? qui arrivo dove? dove sta? dietro te non è il boss, non è il boss niente ok non la no non 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 qua la una vatte in bocca ma vero e niente vent'empa giaccelo amici eccolo merda ma scogliato vengeance se ve ma scogliato evo si non vi portanto va bene ah di a me maria il nome ho io? ah di a me che prende mi piede ah no oh ma che minchia volessi nooo c'è paura eh c'è passato qua vieni vieni qua 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 vieni qua giro vieni storno e fuori e fuori qua tam tam iiii qua qua mi fa mi fa e la mia peppa nooo no sì c'è talmente tanta con la roba che c'è veramente c'è tipo 4 e drop no 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 parola il testo in grado parla per questo non è un'altra in quale ritornare se lo comune per la montagna 4 parli parli e paura parli 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 i ballerini ma se stanno tipo... scusa cosa vuoi sto? cosa succede? ah non è un segno stai via ok questa è la terza parte e mi raccomando che andiamo a safe ragazzi si si di qua che sei male? di qua c'è questo qua per te sputenare questo qua questo qua assomiglio inizio oh guarda prendila un botto in alto fatti trasportarla qui ecco raga c'è tutto leggendario pure lanciarati raga c'è due squadman eh eh questo macello ragazzi che parlo? che è questo macello? macello e coni bicchieri cosa? niente mi dice che viene da una mano mano vado vado terra qua 26 e bianca 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 uccisi tutti no qua c'è un'altra amicaeta leggendale ora è un altro team dove? qua 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 c'è Spagna Altre gente? Allora S. Qua c'è Spagna Qua c'è Spagna Qua c'è Spagna Qua cazzo Qua prende la cazzo Qua cazzo Qua cazzo Qua cazzo Qua si Qua qua to To No Michi Michi Sì Vai l'altro Prendilo Presso La pozzola non ti la prende? No nessuno Ti serve in cuore? No vabbè Guarda in alto a finire Guarda in alto a cinista Ti serve? ti ripasso? no 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 per dopo per la fight finale no 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 e va a PNAPOLI ma a PNAPOLI squalo squalo 70 euro facciamo uno sfavere la gente la gente a PNAPOLI bravo la gente sento arriate usted a te si e mi eeeh 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 i ieri mi 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 ma 4 ieri un po' nonostante la mia cd marco r percorso ieri bianco no no ok da un lavoro a. vorresti facendo reti di un mare che vorresti facendo io non lascio questo posto perchè c'è un'altra io sono il fucile legionario che ce frò non c'ho niente io dai dai ti copri? si si ti copri ora c'è un po' il palo vieni amigali ma ti copri sto sopra va dai colosina se l'ho ucciso vai asper lui usate quel loot la capito? lo sto asprando io questo qua questo qua amici eh si che c'è spero 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 vallo lootà almeno c'hai tutto metti i colpi tutto spero i mazzi to' un po' no no se l'abbè se l'abbè se l'abbè 3 contro 3 contro 1 ora 3 contro 2 contro 2 va bene oh gente guarda 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 attento guarda 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 oh per via spero uno ah non è ucciso bravo l'ho ucciso scura vengo vengo faccio questi no 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 non faccio questo cosa diranno mai vengo 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 ok ok contro uno voglio faremo il ultimo prendiamolo prendiamolo aspetta eccolo eccolo dove alle che le vengo il vengo 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 Ehi! Buon mese! Vanno, amici! Let's hit! 8-15, qua si sminchia! Sancho, let's hit! Preparate! Kimi, Kimi, preparate! Come on! Hello! Ehi! O vai! Vitória! E vai! E la discoteca! E, 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 e. Come stai? Io ce la faco il balletto. Guarda! Aspetta qua! Guarda! Guarda una mia cam purchase! Io ci sto.. E' impossibile! E' impossibile! Andiamo qua! Colopi che ti chiammato del deno! Sì, non è vero, non è vero, non è vero. intanto parmelo a lui allora Brodno che sei l'inzatto del puro della vita e io faccio ben ben ma lui grazie se stai ma lui va bene va tranquillo fammelo guardarlo dica 172 Sì, è vero. Ciao, cosa parla? Naturalmente si andete prendere la scherma, faccio un po' sede. Scherma. Ancora. Non c'è nulla perché non c'è nulla. Ma se chi va. Sarò? Sto. 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 Buonardo. Sto. 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 io muo arrivo a 999 ecco, lo faccio qua, schizzo vieni, tirano questi, ma addio c'è uno oh, no, sono morto oh, no, no, non vale, il compo guarda, che finì oh, era, era che l'altra gru, non c'è che vuoi si uomo si 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 guarda ha vinto la partita prima questo è quello che non ce lo so la padralla se ha io ce l'ho make it allora io posso dire se ce la busta tu le gomme si perchè se le tiri sotto faccio a fish cerchi il robot di vicino da me si andiamo se volete se volete io sto pensando non c'è niente e dopo darceli però non legni che è fatto proprio tutta questa casa che è fatto se volete 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 4 per il mio avessi 3 4 3 4 4 4 4 4 5 non ci sono tantissimi eh fateli fateli ci dispiace per scalare quelle montagne pericolosissime dovresti controllarmi i simografi bravo andatevi nel conto ma io non ho senso scusate ma io non ho senso alla prossima incominciamo andatevi andatevi nel lago andatevi nel lago fai il minuto basta correre non penso tutti entro entro non ho ferro passa le pietro aham lang건 tanto ci c'è la pescata incomincia io? no 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 qua incominciamo qua dai per scoprire per scoprire si c'è la gomma per dopo si dov'è 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 700 Degasci Oh mia la cominciamo per favore di supermerci Si si La cominciamo per favore di supermerci Degasci Che se ti ho messo la rueda ok ok mi sento solo ok devi sapere no 4 1 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 5 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 6 6 7 7 8 9 9 10 9 9 9 9 4,23 600 5 5 5 5 5 5 allo strutture ecco ma forse così è troppo basso bisogna ahahah ma arriva a te qua, dovremmo farlo no, 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 no arriva, arriva arriva troverò una soluzione dove sei? te sto arrivato cazzo non ti tocciamo un po' di niente cazzo stai ho sprecato tutti ma la sua vabbè rifanno i mazzelli e ricominciamo un po' più là riprendi la cosa no no ehm disinfetta se ditano ce la fanno a fare tutti per scuola ma che ditano spara non ce l'hai? no cazzo vedete questo la scuola 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 ma che non è troppo tardi non è troppo tardi non è troppo tardi era perfetto con la scuola stigione vabbè 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 avanti ABRACE vabbè in vabbè avanti io il ci E' un po' a me, non lo conosciamo. Aspetta, fanno a me, c'è quelli. Vai, a me, c'è, c'è forte. E' quelli che mi hanno ucciso in me prima. Lo fai, bro. Lo fai, bro. R1. Arrivo. Ho ucciso tutti e due. Vieni a prendi i max. Vieni a prendi i max. Arrivo, arrivo. Dimmi se sei l'altra parte, guarda, tu. Può farlo nel centro. Quanti ce n'aveva? Abbastanza. Allora, prendi questo. Vabbia. Quanti ce n'aveva? 800, 600, 700. 300. Parano. 32 qua? E' cominciata, aspetta, che siamo insieme. 34. 120. Allora. Qua? O me ne hai chitto? Sì, la prossima safe, incominciamo. Capito? Qua, vieni qua, vieni qua. Non è a te. No, 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 ce n'avevi, devi incominciare la safe, e inizi a costruire così. Alle spalle. Eh, no, è meglio di qua, vieni qua. Ci vuoi muovere più spazio. Aspetta, Gio, però te ne devi prendere qualche abilità che... Qua, 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 qua. Qua, sbrigati, sbrigati, sbrigati. Sbrigati. Vai, 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 vieni, 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 vieni. Ci muovere più spazio. Almeno arriviamo proprio in safe. Vai, vieni qua, vieni qua. Sbrigati. Fatti è lenta, vieni, dai. Sbrigati. Forri, forri, forri. Forri, 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 forri. Forri, 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 forri. Oh, non ci stanno a spaccare. Non ho sparare, eh. Per carità, vieni qua. Non ci hanno visto. Allora, vieni su. Wow. Wow. Eh. Eh. Sta. Oh, cio. Che meraviglia. Grandi, siamo due atti terzi. E' trovato. Quindi, non mi riusci a che la cominciamo subito. Dov'è un bacio tutti tre, tu le tutti mazza. Esci. Mi riusci a che la cominciamo subito. E' matto. No, solo legno. La cominciamo subito. Ma la prima o la prima o la prima o te? Dove è un posto che c'è tanti malazze? Andiamo a un caverna. Dove? Caverna. No, non c'è tanti malazze. Rocky Rins. Buono, non so, non so. Ragazzi, io a me ho giocato molto con la Sky Beast. Allora, buono. Allora, ti provano poi i mazzi. Canate, tenete, canate. Buonate. Allora, dopo un po'. Qua tipo? Che tante alberi, rock. Però, dovemo dire, c'è la safe un botto lontana. Eh, c'è la, c'è la, c'è la, c'è la, c'è la, c'è dietro. Dove è il bambino? Dove è il bambino? Aspetta, noi aspettiamo... Eh, non può aspettare. Non si può, a me. Non c'è idea. Dai, no, ti puoi dare, come su io. Rocky Rins. E c'è alberi e rocce. Rocky Rins. E che alberi non è il problema, perché se ne andava per tutto. Poi tipo rocce e roba insieme. Ma non lo parla. Parla qua. Non c'è pietra. Ah, pure pietra, no. Io inizio, tu devi affarmare. Poi, non. Poi. 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 Grazie a tutti 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 Buona vittorio Grazie a tutti Buona vittorio Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Destra Grazie a tutti Grazie a tutti Buoniamo non c'è più le montagne non è scherzo si era pagato si era pagato tutto grazie c'è un po' di esempio ciao no che pussimi che sei c'è un po' di centri c'è zero anni questa è l'ultima merda uno lo scende eh ma c'è un sacrucente 172 un altro bene non c'è un sacrucente non c'è un sacrucente non c'è un sacrucente non c'è un sacrucente cosa va ragazzi e niente niente non c'è un sacrucente 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 Grazie a tutti.